Raga io vado qui da solo se vuoi riuscire ad andare più avanti così almeno ci sbrighiamo per lootare Non c'ho nessuno Allora vado down ti addio Sono basso Vaate Io vado a lama a lootarmi il lancio Ok vai Non penso ci sia gente La challenge del lama è finita Allora pistole No scar Dai Non abbandonarmi Io smg bianche Sto a piangere Raga ma che cos'è solo le ammo ho trovato Io non ho manco una pistola Aspetta ma avevano abbassato il drop rate delle pistole o l'ho su? Maybe O lo avevano alzato del 25 C'era qualcosa che mi ricordo nelle note di qualche patch fa che avevano cambiato sulle pistole Sul drop rate No ma l'hanno fatto pure sta patch hanno modificato qualcosa sul drop rate Ah si Mi sono in ritardo No Un chug Beh io sto fai... Ci sto provando tutti i modi Qua non c'è niente manco qua Ok Ok Io ho accesso adesso No raga c'è Ah non stiamo qua lo da A essere in safe o siamo in safe bro La cosa più close è qua l'smg ma Non conto Eh io ho Aspetta un attimo Eh petto ti posso dare no? C'è io c'ho solo una pistola non so voi Grigio Ah io c'ho... Faccio il medico da campo Mende Io c'ho il revolver e basta No pistola viola godo La si Vai a lootarti questa 15 Steve Raga eeeh Io c'ho un botto di pozzette e altra roba C'è butto le grazie Io c'ho solo la pistola ok Gioco con solo la pistola Non c'ho altre armi eh Sì sì Ma anch'io Ho una pistola e basta Eeeh Perché mi sto portando tutte cure Shieldini roba Regà andiamo Passando da nord vai Sì Ma aspetta che qua ho trovato una casa da luttare Regà se la facciamo è greve eh Greve è un asfuck ma Tosta questa come challenge Non c'è una statistica che indica quanto il giocatore è bravo Non è come pubg che c'è l'average damage no Almeno di fare un'idea di uno quanto sa sparare bene Mi pare che c'ha a fine game però Cioè mi pare che c'ha un tratter L'average Oh revolver Ok dobbiamo entrare in safe Non so se ce la facciamo senza prendere danno Io ho 10 bende io Voi? Eh io ho un chug Una pozza grande Quattro pozze piccole E un medikit Cioè come lutto sono la stessa roba di prima Due pistole Di merda poi Vabbè io ho due pistole Un revolver è quella normale Cioè tutte e due bianche Oh là c'è una pistola verde Wait Eh io devo entrare in safe Guarda la safe Vai vai entrate entrate Non so su quale testo hai messo il L'autorun Eh Num lock Si Su Block num Num lock Si 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 però si Eh si però devo premere pure shift Cazzo No solo una volta Solo una volta Ah Ah Buona raga Oh mio dio Che bello Guarda mi hai fatto pure il coso di per scendere Così non prendevo danno Grazie Ah ragazzi Io ne ho proprio con tranquillità Ah Con il rotelitto Onesto Io ho lasciato tanto di quel ben di dio Prima Noscaro Ho aperto tipo 7 casse Ma non hanno messo altre sfide gratuite Si No 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 Ah no gratuite no Gratuite no Sei uno sfigato per quelle gratuite Eh beh Io ho il pass però Davano Davano un po' di roba in più Temporaggio Level 9 Eh vabbè due challenge Ovvio ovvio C'è la safe ovvio che sia dall'altra parte del mondo Cioè l'ho nel loggio non c'è nessuno Che bomba veramente Cioè Che cazzo stanno Nel loggio Sfigato Beh oddio Forse la gente che scende da wheeling Perché c'è la challenge da wheeling Eh ma vanno dritti Non rimangono lì Non c'è Non c'è Non c'è veramente niente Raga io girerei Seguendo la La safe blue Farei tutto il giro intorno Così evitiamo che c'è qualche player Che dite Conviene 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 Finchia stratattice Eh però beccarli dopo Eh sì però Dopo come andiamo a challengeare gli ultimi Già già buttami due shield nel fiume Che li vengo a prendere Fatti Ok posso grazie Penso che la challenge più hard Comunque sia quella la Picconi No Più di così farò Cioè cosa vuoi fare No no Vincere senza io Non è una cosa del genere Cos'è? In verità Quanto è semplice di quella che pensi Ah qui dovresti fare un fight Solo un singolo fight Però sappi che se Il team è decente di là E ti mette un hit Ah quello è vero Vabbè Ho uno davanti Ho uno davanti E buttà C'è un altro davanti Dai prendiamolo questo Lo vedete? Quando volete? Ragazzi andrugando Io non lo vedo Sperate Sperate voi Sperate Sperate Cazzo mi hai costruito davanti Scusami Vai tra vai tra Stando costruendo Ci sto anch'io Uno è weak Uno è weak Lo vedo Lo vedo L'altro è davanti a me 50 Lo dobbiamo pushare Dobbiamo pushare Occhio Tenti sta Eh va bloccato Vabbè Cazzo col bomba Guarda quanto è facile Buona cg raga Ho fatto da scudo E ho iniziato a spararmi tutti Dio Ah mi tiro il chug Vieni 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 Stavo guardando Guarda scara oro Cosa c'è per terra Comunque c'è una revolver Prendi tutto Velocemente che arriva Poi la cosa Mi sto tirando il chug Io sto arrestando lui Raga io non posso prendere un cazzo Se non mi tiro niente Prendo io Prendo io se vuoi Prendete voi se riusciamo a prendere qualcosa Perché Io non posso prendere niente Ma c'è una bozza Questa è una immondizia Ma questi c'è un botto di roba Raga Questo comunque sapevano giocare Sì sì Questi non erano dei ritardati Oh ehm Raga io posso darvi la poccia Se volete posso dare il chug A uno di voi Penso che conviene A te A te Sicuro? Perché io c'ho ancora 5 shieldini E 2 shieldoni Cazzo non bevurci Allora dalla E lui ti tira gli shieldini up Eh ho bevuto lo shieldone io Tieni Hai bevuto lo shieldone? Tieni Sì mi ero dimenticato Ne ho un altro Ne ho un altro già a posto Cavolo non avevo una pistola Che nabbi Eh una revolver l'ho presa io 400 muni della R Comunque la challenge più difficile Oh l'anspade Eh non ci serve bro Continuiamo ragazzi a bobo Sai quale dobbiamo provare? Quella della stairway Sopra la testa Ma vabbè Quella è proprio il top Io l'ho vista fare In solo una Questa è divertente da fare Ma quella è di essere divertente Sì Cioè ti metti la Possibilmente prendi Gli ultimi 4 Sono scemi Raga 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 Venite di qua Seguiamo il bordo della safe Almeno vediamo chi c'è Cioè perché se entriamo diretto Non ci conviene Dobbiamo entrare diretto Quando ci abbiamo la posizione Prendiamo info Se c'è una casa dove ci possiamo buttare Possiamo prendere anche quella Addirittura Mi raccomando raga Bisogna spammare costruzioni Come dei draghi cinesi Sì in effetti Faccio un po' di Materiali ne avevano quei tizi Io non avevo buttato i materiali Eh raga c'è qualcuno dentro qua Ah raga stanno costruendo Al transformer Ah sì sì ho visto Quanti sono? Ne ho visti solo due Io li aspetto qua dentro nascosto Voi ti faremo del diazio Vai vai Vabbè la eagle non ce l'ha nessuno qua Ho già capito Ah proprio camminando Cracciati cazzo Sì sì Sto facendo model gear bro Lo vedo Sta là uno No ci manca il cartone Ci manca il cartone raga Lo vedi? Lì all'orizzonte Sì stanno andando via Stanno andando via però Perfetto Seguiamoli Cazzo mi cerco una pistola Mentre Non ce l'hai? Eh io l'ho trovata L'ho trovata No ce l'ho Oh aspetta questa cos'è? BELLO Madò abbiamo vinto Basta Ah una pistola Silenziata Rai sto facendo model gear solida No ragazzi due match Mi dovete portare alle spalle queste pistole Cazzo sta al tizio Io collo la casa Questa casa è qua a 150 Quella gialla Buttiamoci dentro noi Buttiamoci dentro noi raga Muovi di trappole Eccoli 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 Zitto 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 Quello ci ha visto Quello ci ha visto Quello ci ha visto Via 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 Becca 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 Forse riusciamo a tradeare Forse riusciamo a tradeare Io vedo quelli sulla destra Eh ho capito però c'è qualcuno Ah intendi super destra montagna Sì sulla montagna C'è gente a sinistra Quindi forse riusciamo a tradeare Uno lato noccato Oh shit Oh shit Ma non ho risciato il culo Uno lato Io li ho cerca di finisciare Finisciate l'iccata per a terra Finisciate Ho messo due hit Regà dovevi fare quelli lì sopra la casa Cioè che stanno costruendo come dei maiali No non riesco Non riesco Non riesco manco io Regà e pusciamo Pusciamo dietro quella collina Venite venite Pusciamo dietro la collina C'è il tramplein Oddio No l'hanno distrutto Sono dieci rimasti Vabbè ce l'ho io però Volendo lo posso piazzare Stanno affaitando comunque Questi sono gli ultimi tipi E lo so Il problema è come facciamo Quelli lì che si sono costruiti pure la mamma Volete che Si sono buttati giù Si sono buttati giù No 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 Stanno ancora lì affaitare E vogliamo andiamo sopra con il jumpad Vai E regà io vedo altre soluzioni E come lo facciamo Eh vabbè Facciamo un piazzone Prendiamoci Quelle cose Che già Sono qua davanti L'ho con Ne ho knockato uno No 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 Sotto Cosa sta esplodendo di tutto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Sono morti tutti Si No Si Queste si Sono gli ultimi Gli ultimi Quali sono due Però ne mancano No Ma è messo Due hit Bianco Uno sta bianco Quello con la skin Con la testa spinata Sta bianco Arrivo Ok Io mi sto allargando Sulla destra Ce n'è un altro Sempre a ovest Con lo sniper Tutto sulla destra Prendiamo questi Alle case Questa è la casa Rotta Lo vede la casa Continuo a girare Continuo a girare Io mi sto allargando Oddio ma hanno lasciato One shot Ho finito Non cado Da me Non cado L'ultima è qua dietro da me È dietro la casa Non c'è la skin È un pezzente Andiamo È dentro la casa Dai Challenge seguita Non ho parole Easy